Un commovente ultimo saluto a Claudio Rubinato, il DJ rottanovano che si è spento a 51 anni, il gigante buono a cui tutti volevano bene. Stamattina nella chiesa di Santa Maria Assunta a Rottanova il funerale del 51enne conosciutissimo non solo a Cavarzere ma in tutto il Basso Polesine per la sua carriera di DJ. Simonetti DJ iniziò il suo percorso come speaker nella radio del paese per proseguire come animatore, quindi portando la sua musica nei diversi locali, tra i quali anche il Costa Caffè di Cavarzere e poi nel bar omonimo di San Martino di Venezia, dove lo scorso sabato sera Claudio si esibì per l'ultima volta. È venuto a mancare domenica scorsa a causa di un malore improvviso, lasciando la moglie, il figlio Samuele ma anche tutti i suoi parenti, gli amici e i colleghi. Tanti sono stati in questi giorni i messaggi di cordoglio per Claudio e alcuni sono stati letti durante il funerale.